MIMARIO MIMARIO TREI UUUUUU PROPO TISO O NAH O NGIO E' PROPO E' O NONELA UN LA GOSTA E' MISCULTI E' MISCULTI E' MISCULTI prendetemi per falso si wow che buona questa qua quanti che ho trovato guarda raga si si c'è billy age ho trovato billy age la vuoi? te la mando? no vabbè billy age ciao mi dispiace passa avanti un manga un manga mettete il bronzo se no mi metto nella mia vetrina insieme alle maschere di d'oro che ho toccato Vicky? 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 vabbè dimmi vuoi diventare d'oro? eh no 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 ma ma l'hai acquittato cosa? guarda è Ale che è disconnesso ma come? ho staccato ho staccato ho staccato ho staccato ho staccato ciao ho staccato facciamo parte reale? no no ma in diretta questo qua no è quello che mi piace sapete che lo saluto no mi dissocio c'è il mio amico guarda sta facendo la diretta guarda lo devo salutare questo è un po' simbatico lo schivo che non gli scrive nessuno ti voglio bene ci sto scrivendo ti voglio bene ti voglio bene il tribunale con terezza è uguale a oh io bene a lui ecco eh mi fa pensare a quello la quello che pulisce le scale perché è uguale a lui mi sono spaccata il naso è uguale a lui è uguale a lui scritto sì è uguale a lui io ho mandato su su pk no mi dissocio ti riassocio Vicky eh ti ammazzo ehm no niente tu non hai sentito niente vero? ehm come te sei dove hai composta la roba? mi da fermi la città chi da puttana ma perché c'è una mano gigantesca ma lo sapete che ora gli dico a Mida che no ehm lo sapete che ho visto Mida lei in autostrada di sera una vita reale? no in autostrada di sera che facevo cose con un quarantenne due qua stanno ballando mi chiede davvero forte sto bomba in mani fa 93 no ok di schiena fa 93 c'è g g wiii oiii oiii lo co lì ti sblocchi una pozione per le missioni la pozione io l'avevo trovata una volta quella rosa si è quella che non trovo mai io già l'ho trovata no ma ce n'è un'altra no e ce l'ho trovata si viva rumore cassa leggenda che ce l'ho sopra ma non sono arrivato cassa leggendina io non mi bocca puttana ciao raga non ho messo andando detto sono morto arriva ma io sono fatte tutta tua taglia mai buoni di merda gamica per me dai 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 mi cucurando sto curando a caprile arrivo 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 da te che questo vogliono e corriva gambe che voglio è curato ma non so se eccolo è l'uomo è l'uomo è l'uomo non posso fare niente no ma questi sono idioti porta niente te le mamme me quando me si mette il ma no no un m oh 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 aspetta metto pronto l'ha venuto in casa, l'ha venuto in casa, ma che cazzo che venuto in merda è? deve essere la domanda è il pezzo da te è il pezzo da te quando si fa qualcosa è io che sto parlando io che sto messaggiando ho capito quello che hai detto io l'ho vedi gli ultimi video che ho fatto prima è il punto di incontro è il punto di incontro è il pezzo non mettete questo minchia di pronto, perchè? mi dici quali sono le caratteristiche gabry non mettete quel minchia di pronto ormai siamo nella partita le caratteristiche sono dopo poi è il monopolio è il monopolio è il monopolio è il conciliato nelle mani di pochi di pochi persone di pochi che hanno imprese ma produmono lo stesso produmono lo stesso e produmono lo stesso ma produmono lo stesso e produmono lo stesso e produmono lo stesso e produmono lo stesso mi stessi mi fai un esempio di un oligoporio dove produmono lo stesso bene? raga buttatevi dove volete se muoio tranquilli io sto parlando sì non ti sento quella risposta che hai dato tu al corrento ti puoi mutare riccardo si mi muro aspetta perché sento la la voce del professor lo so sta interrogando genere sta interrogando mi muro comunque resto salto ok grazie a tutti Grazie a tutti Ci sono? Raga? Qua siamo, eh che l'ho fatto mutare perché stavo... Ma Ricky? No, è qua, è qua, è solo che l'ho fatto mutare che stai con i professori Ma... Ah, è in direzione? Sì Qui, ma è il lobby? Sì, lo so, vieni qua, dai, giochiamo Io ho messo salta perché devo... Dove mi entrare, forse Vuoi due fare copie, ok? Ok, va bene Poi arrivo Ok, è illudo Aspetta, io abbandona No, no, perché? Ah, perché dobbiamo avere coppie, sennò sono due contro le tre E che eravamo coppie? Wow Vabbè Mi chiamiamo noi due contro le tre E noi abbiamo soltanto noi due No, 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 no È tutto pieno di poche Grazie. 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 Ci sono. Ciao, chi è che sta così? Gabri. Pensi no, no. Ah, aricato. Totto. Metti brontolo. Covid. Quanto mi manchi Ludovica. Mi senti? Sì, si è bancato l'audio. Ma quando mi manca Ludovica? Boku no Hero Academia. 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 Vediamo cosa c'è nello shop. Un shop. Un grappio. C'è ninja. Poi c'è succo di frutta. Poi c'è pugno del prezzo elettro. Mi manchi Ludovica tanto 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 tanto. E quindi? Super asciutto. Ludovica. Mi manchi tanto 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 tanto. Sto. Sto. Ehm. Pah 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 pah. Sì, mi rispia. Sì, mi rispia. Oh, l'acqua con le gocce. Sì. L'acqua con le gocce. Ehm. Ha ruppato. Innamorato di lei. Innamorato di lei. Innamorato di lei. La senti Ludovica? Mhm. E' una musica che ho visto su un episodio. Questo qua è sull'episodio del cubo, si chiama Tribu, è bellissimo. È bellissima questa musica, solo perché ho visto il film. Sì, è bellissima questa musica. 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 no vabbè io sono rimasto chiuso nella mia stanza ancora sono le 11 di mattina attenzione mi pareva di aver sentito di più oh salta salta su voi no non lo farei scoppiare non lo farei scoppiare non lo farei scoppiare perchè? perchè non lo farei scoppiare ah ma quanti pesci stai pescando scusa tanti pezzolini pezzi 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 scusami signorina ma ti devo dare questi qua venga esplodi è morta la signora è morta la signora ti ammazza sto saltando che bello si fa la nuotata c'è il nemico qua nemico è buco giusto no è quella là è quella là è quella là è quella là è felice andiamo insieme ci nascondiamo nelle siepi no ho capito cosa fare cosa facciamo nelle siepi vieni vieni basta tranquillo e tranquilla è tranquillina qua fermo salta salta sul boy dai facciamo oh oh ma che c'entra io brutta cessa capa ripessa Ti butto le bombe Se vuoi esplodere esplodi Se no non mi interessa E' posseduta la E' la signora è posseduta E' morta la signora C'è gente là sotto Di paolo E' morta la signora E' morta la signora E' una stalker C'è gente lì Che problemi ha Innamorata di te Yo l'ho seminata Lucia Quanti soldi Ma tutto Tututto Quanti soldi ma tutto Tututto io c'è un'arma di schifo non lo so fare dammi qualcosa grazie aspetta aspetta non le fare esplodere esplodiamo aia aia chi è la sopra nella casa nella casa non ce l'ho più non ce l'ho più io voglio ci metti pure tu chi disse ludovica infatti ho sentito anche io non sono soldo comunque nella barca la nella nave ci sono rinchi per angione l'arrestato no 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 non è possibile non è possibile questo non è matto proprio ma vengo qui che ti spaccio la mia la scimmia e ti spacco la scimmia no caprile perchè sei morto ce l'ho fatto di me io sono morto se mi uccidono che devo fare io così puoi giocare adesso digimi no non è ancora finito ci siamo anche babbaro ci sono scusa ti sbagliato ci siamo mettiamo un po di musica vai vai mettiamo un po di musica innamorato di te no la metto io non mi hai taiuto mi hai taiuto ce mi ha asombrato questa è bellissima è nuova ahhh ma è un giudice è un giudice è un giudice è un giudice questo è un giudice è un giudice è un giudice un giudice che si no è un giudice se un giudice non è l'ottore se un giudice perciò in teore non si Grazie a tutti. Grazie a tutti. C'è un nemico qua. 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 lo vuoi non ce l'hai mai meglio di più no 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 non vediamo qui io ho due va bene o due come uno dai a cosa lo dico davvero tutto carico scherzo guardati voi nascondere qua lo so lo so ma non lo vedo per ora perché è sparito scusami no niente mi fa volare si fa volare volare uno a destra una manga c'è una stridata non lo va poi Quattro ragazzo. Perchè mettiamo la canzone in videolezione? Loro vai. arriva la rida rara 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 io sono dato insomma da guarda la macchia di bambini e mario ottimo sembrano le 8 ma da che vuoi che quella di sé di prima maio la macchia l'inverso l'inverso morì ferma ferma non prenda no sparita e magia questa è magia mi sembra ora non ben fatto ma dopo per su un'arma leggendaria chiama questo ma c'era qua anche voi provare a giocare con scarica di ciò farò schifo ne faccia la pena arma armato e pronto armando e pronto no sbagliato me la giocherò malissimo quindi ma dei piccoli ciò ma cioca è la cia E' un po' di giuola. E' un po' di giuola. Non è un po' di giuola. Ci sono delle mele. E' un po' di giuola. Poi un cerchino di fuoco? No. Sicuro? Sì. Va bene. E' un po' di giuola. 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 Non è un po'. curato pensavo che arrivi vicino non è curato ormai arrivo 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 e non è persa ma che nabbi si vuole fare guarda scarica la scarica la scala c'è chi è pronto si arriva questo è quello che mi ha ucciso la specie di mammut questo è quello che mi ha ucciso il mammut è è è Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.